Abbiamo detto con il Presidente che sofferenza, però almeno il turno è stato passato. Assolutamente sì, siamo questi e mi tengo stretti i miei giocatori che oggi hanno fatto una grande partita dal punto di strateggiamento, della voglia di recuperare il risultato, che è la cosa più importante. Quindi il passaggio del turno non era assolutamente scontato, l'abbiamo visto, ma con un'ottima gara resa che ha fatto la sua onnesta partita, chiaramente doveva dare qualcosa in più, visto che noi avevamo due su tre dei risultati. Loro hanno fatto una buonissima partita, ma noi abbiamo fatto il nostro. Allora ti riporto le parole del Presidente che ha detto ci dobbiamo dare una svegliata, a me questo tic e tac non mi piace. Lui è libero di dire quello che vuole, rispetto al Presidente, è il padrone e dice quello che vuole. Sono d'accordo, però le partite di calcio, in Lega Pro soprattutto non sono molto semplici da gestire, soprattutto con una squadra che comunque sia convive da tempo con dei problemi fisici e quindi chiaramente ogni volta mettiamo la squadra con il vestito migliore, oggi di buono, ci sono risultati sicuramente, ma io vorrei premiare tutti questi ragazzi che ci hanno messo l'anima oggi. Ti chiedo due notazioni tattiche, poi dalla linea Massimo in studio per le domande. La prima, secondo me il Pescara è migliorato nel secondo tempo quando si è alzato molto pontisso, più vicino all'area di rigore, sei d'accordo? Io non ho chiesto cose diverse nel primo tempo, però a volte la lettura di singoli di ogni giocatore fa sì che vengano meno delle uscite, delle scalate. Però, insomma, Simone è un gran bel giocatore, esattamente come Marco, è deriso. Quindi giocatori che fanno bene, quando interpretano bene due fasi, probabilmente la fase di non possesso, quella del Pescara, è quella che magari è un pochettino dove creiamo un po' di problemi a noi stessi. L'ultima da parte mia, il Presidente ci ha detto del problema al polpaccio di Ferrari dopo la rifinitura di ieri. Sensazioni? Si è parlato con lo staff medico per un eventuale recupero per mercoledì? Anche se poi c'è Nicò e due gol da fatti. Sì, sì, complimenti a Jacopo, insomma, sicuramente Ferrari è un giocatore che per noi è fondamentale, ma in questo momento era un rischio troppo grande, tanto è vero che si è scaldato anche oggi, ma ha alzato bagniera bianca. Le condizioni purtroppo sono da valutare, già domani avremo un'idea su come si sveglia, purtroppo dobbiamo valutarlo giorno per giorno. Allora, io vado avanti con l'intervista, do una comunicazione alla regia di richiamarci perché è andato via il ritorno in cuffia. Ti volevo chiedere sul gol del 2-1, avete protestato molto, che cosa ti ha detto anche Zappella? Io dalla panchina ho visto che fallo, secondo me era fallo, però in certe situazioni quando l'arbitro non fischia, d'altro non bisogna accettarlo, però tutto il mondo, l'abbiamo visto anche noi, è chiaro che le immagini non sono vicinissime, però a me sembrava nettamente fallo. Detto questo, insomma, bisogna essere anche più risoluti in alcune situazioni dove bisogna pulire l'area e sistemare le cose più velocemente. Ecco, ora è tornato il collegamento con lo studio, quindi Massimo Profeta per Luciano Zauri. No, intanto la premessa che è dopo, intanto complimenti per la qualificazione Luciano, io credo che insomma sia problematico cambiare una squadra in poco tempo, tu sei qui da quattro partite, sei tornato, quindi insomma secondo me è molto ma molto difficile, però la squadra gioca sotto ritmo e soprattutto, insomma, c'è poco movimento senza palla, convieni? Massimo, sì, ma è una squadra che ha delle caratteristiche ben precise, è una squadra che magari ama palleggiare appunto per caratteristiche e si accende quando riusciamo a trovare i due attaccanti, in questo caso Dursi e Clemenza o Rauti oppure chi giocherà. È chiaro che quando poi, quando siamo in fase di uscita, commettiamo degli errori tecnici, non riusciamo a respirare con la palla, quindi su tutte situazioni dove ci vorrebbe più... la qualità ne abbiamo tanta secondo me, però a volte commettiamo degli errori tecnici forse un po' per frenesia, un po' per... insomma, il calcio è fatto anche così, ci capita spesso, purtroppo ultimamente facciamo ammenda, ma ripeto, noi oggi ci prendiamo risultato, è una cosa più importante. Altra domanda e poi la salutiamo Zauri? Beh, guarda, siccome è appena arrivato Gianluca Colonnello, che saluto e ringrazio, anzi, i saluti poi a Dursi, che lo scorso anno lui ha allenato a Bari, quando ti capiterà di incrociarlo Enrico, perché ci teneva Gianluca. Gianluca, una domanda per Luciano. Gianluca, complimenti per il passaggio al turno successivo innanzitutto, che è la cosa più importante. Poi volevo chiedere, come mai questo timore? Sembrava una squadra intimorita all'inizio, è stato quasi tutto il primo tempo così, però perché appena acceleravate un po' potevate segnare in qualsiasi momento. Come mai questo timore? Beh, Gianluca, sinceramente è una... è una situazione che non vedo, nel senso che non alleno, quindi è una cosa che noi non proviamo, quindi il nostro atteggiamento non deve essere quello di aspettare a prescindere, ma di uscire con determinate situazioni. È chiaro che l'avversario ci mette di fronte delle difficoltà e non sempre siamo riusciti a metterci una pezza. Possiamo migliorare sicuramente, perché poi è una squadra che quando per caratteristiche si abbassa e riesce a ripartire in qualità, fa male. Quindi le caratteristiche non sono ben precise, però è chiaro che se ti porti il nemico dentro casa, qualche problema te lo porta. L'ultima è, salutiamo Zauri, vogliamo sapere da che cosa è nata questa esigenza di una settimana di blindati, senza poter vedere gli allenamenti, se magari volevate un po' di tranquillità, volevate provare delle soluzioni. Ma non c'è un motivo preciso, i ragazzi hanno bisogno di un po' di serenità, secondo me, di tranquillità, ma non c'è nessun tipo di problema assolutamente.